Fino al 23 luglio Civitella del Tronto torna ad essere un borgo di birra con la quarta edizione della rassegna internazionale di birre artigianali e street food di qualità. Quest'anno avremo 100 tipi di birre artigianali in un percorso di 1,2 km attorno al borgo, più ci saranno dei street food. Oltre a questo la domenica avremo una degostazione di birra in sala consigliare con dei mastri birrai. Obiettivo della manifestazione è promossa dall'associazione locale La Piazzetta in collaborazione con il comune di Civitella, Fortezza e Museo Nakt e promuovere il borgo fortificato. Molti dei punti birra saranno allestiti all'interno di palazzi storici normalmente chiusi al pubblico. Intorno al borgo di birra siamo estremamente contenti per questo perché porta allegria, porta gioia e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Senza contare il fatto che portando tante persone questo fa sì che in qualche modo mostriamo la sicurezza di Civitella in questa fase, siamo tornati fruibili e quindi speriamo che tornino tutti quanti presto a Civitella. Per quello che riguarda la parte culturale c'è questa novità molto interessante, dal giovedì fino alla domenica sarà possibile entrare in fortezza in un orario non consono perché normalmente è aperta soltanto di giorno, quindi saranno delle aperture notturne fino a mezzanotte della fortezza e vi assicuro che è qualcosa di molto particolare. Oltre a questo per la parte culturale c'è l'apertura del museo NAT, il museo dell'abbigliamento storico su Civitella, anche questo molto bello e sarà fruibile durante tutte le serate. Durante queste serate con l'aiuto di esperti del settore i partecipanti avranno modo di approfondire la conoscenza della birra artigianale, del processo produttivo, delle basi dell'analisi organolettica e di assaggiare tre differenti tipologie. Il laboratorio sarà allestito nella sala polifunzionale del comune di Civitella del Tronto in Largo Rosati.